Da dove vieni? Da Kiev, Ucraina. C'è la guerra vera. Mi dispiace. Non è colpa sua, nemmeno mia. Questa è un'associazione che si chiama Save the Dogs, è nata in Italia. Loro sono qui in Romania già da tanto tempo per aiutare i randaggi, ma adesso stanno facendo proprio un servizio per i rifugiati ucraini che arrivano con i loro animali. Alcuni nelle gabbiette, altri al guinzaglio, altri ancora in braccio, impauriti. Sono migliaia gli animali domestici in fuga dall'Ucraina insieme ai loro padroni. Loro sono spesso l'unico conforto di chi fugge, di chi lascia la casa ma porta con sé i suoi affetti. Cosa vi raccontano le persone che arrivano rispetto al fatto di aver portato gli animali con sé? Hanno in quel momento un crollo emotivo, non tanto per quello che sta succedendo, ma per tutto quello che hanno vissuto. Facciamo un controllo per vedere se è in salute. Poi ci assicuriamo che sia posto col vaccino antirabbia e il microchip. Ma l'assistenza non è solo sanitaria. In un momento di emergenza come questo, la comunità europea ha velocizzato anche le pratiche d'ingresso. Viene fatto un passaporto europeo così che loro possano muoversi nel resto d'Europa perché se no rischiano di arrivare qui e poi non potersi spostare dalla Romania, che sarebbe molto grave. Lasciamo la frontiera e ci dirigiamo a sud. A Cernavoda, piccolo centro abitato a pochi chilometri dal Mar Nero, veterinari e volontari si occupano dell'accoglienza di questi ospiti speciali. Allora, qui stiamo entrando nell'area dove ci sono alcuni cani che arrivano da un canile di Odessa. La signora che gestisce il canile, che si chiama Olga, in un momento molto critico ci aveva chiesto se potevamo aiutarla a ospitare almeno alcuni dei cani in relazione anche al nostro spazio. Siamo riusciti a prenderne una trentina. Eccolo qua! L'ultimo arrivato si chiama Zen. Spaventatissimo all'inizio, si è meritato questo nome per come ha reagito al bagno di benvenuto.